In questo webinar vi chiedo di darmi un riscontro via chat che sentite e vedete correttamente, così verifichiamo da subito se c'è qualcuno che ha problemi tecnici. E anche ben trovati, perché questo è il primo webinar che realizziamo sul progetto Partecipa, la ripresa dopo le serie. Allora, vedo dai riscontri che state dando in chat che è tutto a posto, quindi si vede, si sente bene. Prima di iniziare diamo ancora qualche minuto alle persone che si sono iscritte per accedere. Ok, l'audio è a posto, perfetto. Come vi dicevo, questo è il primo webinar che realizziamo nel 2020 sul progetto Partecipa. Come tutti i webinar realizzati da Formats è un registrato, quindi sarà possibile al termine del webinar scaricare la registrazione, riascoltarla, nel caso condividerla con colleghi che non hanno potuto seguire, scaricare i materiali. Ok, i commenti sono sempre tutti ok, è a posto, si vede. Dicevo quindi, è registrato, i materiali saranno scaricabili da Eventi.pia, quindi dalla stessa pagina sulla quale vi siete registrati. Allora, vedo che alcuni segnalano delle difficoltà ad accedere che, contenta, siano state superate, visto che siete collegati ora. Ci è qualcuno che segnala invece che l'audio in più basso. Adesso c'è in chat che vi affianca e vi supporta per i problemi di tipo tecnico la collega Stefania Mulas, quindi quando segnalate dei problemi o delle difficoltà vedete in chat e la collega vi risponde con dei suggerimenti o indicazioni per provare a risolvere. Il webinar di oggi è un webinar dedicato ad una delle consultazioni che sono attive sulla piattaforma partecipa.gov.it, in particolare è la consultazione sulla piattaforma, quella che è stata lanciata contestualmente alla conferenza stampa di presentazione della piattaforma il 5 dicembre scorso. È una consultazione che abbiamo aperto con l'obiettivo di raccogliere feedback e suggerimenti che ci aiutino a migliorarla. La consultazione è ancora aperta, questo webinar è dedicato a fare un punto con voi sulle prime indicazioni, le prime proposte che sono arrivate, i feedback che abbiamo raccolto in questo arco di tempo dal 5 dicembre. Il webinar vedrà due interventi, il mio, io sono Laura Manconi, performance mi occupo in particolare del progetto partecipa e quindi della piattaforma. Farò una brevissima introduzione, soprattutto per chi di voi non ha avuto modo di seguire i webinar precedenti, attraverso i quali noi abbiamo raccontato sia le consultazioni aperte, sia cosa partecipa, cosa può fare. Io farò quindi un breve intervento introduttivo sulla piattaforma, su partecipa, sulle funzionalità che sono in questo momento disponibili. Insieme con me interverrà la collega Sabrina Onano, che invece farà un approfondimento sulla consultazione, aiutaci a costruire e partecipa e insieme vedremo una parte dei contributi che sono già stati raccolti. Avendo questo taglio, noi vi invitiamo, ci aspettiamo che questo webinar sia dialogato, nel senso che anche per noi è un'occasione per avere anche un riscontro, se tra di voi ci sono persone che in queste settimane hanno acceduto a partecipa, hanno contribuito con delle proposte, hanno compilato uno dei questionari oppure semplicemente vi siete registrati sulla piattaforma, avete un po' visto come funziona ma avete delle domande, ci sono delle cose che non sono chiare, fatele, la chat è aperta per le domande, noi ci ritagliamo, io e la collega Sabrina ho uno spazio in chiusura di questo webinar per rispondere alle vostre domande, vedo che insomma siete abbastanza, quindi inizierei in modo da sfruttare al massimo quest'ora che abbiamo a disposizione, come vi dicevo, questo webinar è dedicato a partecipa, partecipa è una piattaforma per la partecipazione online, questa è la sua home page, come si presenta, l'aspetto di partecipa attualmente, è una piattaforma sviluppata a partire da un software open source che si chiama DesiDim, DesiDim è un software che è stato sviluppato appositamente per gestire processi di tipo partecipativo, nasce in particolare per supportare le attività di partecipazione della Municipalità di Barcellona, e uso il termine partecipazione in senso ampio, nel senso che mentre vedremo poi nell'utilizzo che viene fatto dalla versione italiana, quindi da partecipa, il software è stato configurato, orientato per gestire alcune funzionalità in particolare, nella versione del software sviluppata per la città di Barcellona, DesiDim offre la possibilità di abilitare vari strumenti e varie modalità di realizzare processi tipo partecipativo, sia in presenza che a distanza. È un software che inizia ad essere usato in maniera abbastanza diffusa, non solo in Spagna, ma anche in diversi paesi europei e in diversi contesti livelli amministrativi. Vi dicevo, nasce in ambito comunale, quindi tipicamente viene usato e continua ad essere molto usato da diverse municipalità in tutta Europa per gestire processi partecipativi su scala locale, però è utilizzato anche da organismi di dimensioni maggiori o da organizzazioni pubbliche o private che utilizzano questo software per gestire processi di tipo inclusivo. Vi dicevo, DesiDim è un software che offre una grande varietà di componenti, di funzionalità utili e dei processi partecipativi. A seconda di quella che è la finalità con la quale viene utilizzato il software, è possibile personalizzare l'aspetto che viene mostrato all'esterno, quindi caratterizzarlo a seconda del processo o della tipologia di partecipazione che si vuole abilitare. Questa che vedete è l'home page della versione di DesiDim che utilizza il comune di Elfinky. Elfinky utilizza DesiDim per gestire processi di bilancio partecipativi. Quindi attività di coinvolgimento dei cittadini su scala locale, su una metodologia e un approccio della partecipazione molto codificato e utilizza le funzionalità native di DesiDim per gestire questo tipo di processo. È utilizzato da organizzazioni, vi dicevo prima, è una delle modalità attraverso le quali si può usare DesiDim che è molto modulare, può essere quindi configurato negli spazi, nelle funzionalità per gestire processi di tipo anche molto diverso. In questo caso è utilizzato da Codefans, che è un'organizzazione che utilizza le francese, che fa capo un'iniziativa del governo francese legata all'innovazione digitale. In questo caso DesiDim è utilizzato come piattaforma in particolare per gestire discussioni e processi di tipo partecipativo che prevedono una forte componente di partecipazione in presenza. Quindi è utilizzato come spazio di discussione e di confronto che serve a condividere anche momenti che vengono realizzati sul territorio, tra le persone in presenza, quindi secondo una modalità di partecipazione più tradizionale. Inizia ad essere utilizzato in Italia anche in altri contesti. Questo che vedete è il portale della partecipazione della Regione Puglia. La Regione Puglia si è dotata nel 2017 di una legge regionale sulla partecipazione. da un po' di tempo sta utilizzando DesiDim come piattaforma di supporto alle varie forme di partecipazione che sono regolate attraverso la legge regionale. È utilizzato anche come spazio di discussione dallo stesso team di sviluppo che l'ha creato. Questa che vi faccio vedere è una versione che si chiama MetaDesiDim ed è una installazione di DesiDim voluta dal team di sviluppo del software che utilizza DesiDim come piattaforma per comunità, quindi per raccogliere discussioni e segnalazioni da parte di coloro che utilizzano la piattaforma, quindi enti e istituzioni che la riusano, da parte di sviluppatori, di persone che fanno parte della comunità di sviluppo, sia in Spagna che fuori, che quindi possono contribuire a migliorare, a scrivere il codice e a arricchire la piattaforma di nuove funzionalità, è utilizzato anche per segnalare problemi, malfunzionamenti oppure segnalare miglioramenti, quindi nuove funzionalità che si vorrebbe attivare. Quindi come vedete è una piattaforma che consente vari utilizzi a seconda delle esigenze. Allora, mi segnalate che l'audio è un po' basso, io sto cercando di parlare con il microfono un po' più vicino, spero che ora si senta meglio. Vi dicevo quindi, la piattaforma è una piattaforma che consente di realizzare processi di vario tipo. Secondo una classificazione del grado di intensità attraverso il quale si consente ai cittadini, si abilita la partecipazione dei cittadini nei processi partecipativi, che è quello che vedete riprodotto in questa scala. Nella installazione di partecipa, che è quella che vi presentiamo, che vi abbiamo invitato ad utilizzare ed è quella che utilizza il governo italiano, la versione di partecipa attualmente in uso si posiziona su questa scala della partecipazione che va da un grado più basso, che è considerato quindi quello con il minore coinvolgimento, che è l'informazione, sino a quello più alto, che è quello considerato di empowerment, che in italiano è tradotto con capacitare, che è un termine che personalmente trovo orrendo, però è la traduzione italiana al termine empowerment, partecipa è stata personalizzata per abilitare processi di tipo partecipativo, di tipo consultivo. Cosa vuol dire? Che la maggior parte dei processi che vedrete attualmente su partecipa sono stati progettati secondo un modello che è quello della consultazione. La consultazione è una tipologia, una forma di partecipazione che viene scelta quando il soggetto che la promuove desidera ascoltare le opinioni, i punti di vista dei cittadini o degli stakeholder, dei destinatari ai quali idealmente si rivolge, perché desidera acquisire dei commenti, dei contributi, vuole acquisire informazioni e quindi si pone in una modalità di ascolto. Il fatto di aver scelto questo approccio ha fatto sì che nel personalizzare, nell'installare il software ci si sia orientati su quelle componenti e funzionalità che meglio consentono di gestire i processi di tipo consultivo. Cosa trovate nell'home page di partecipa? Trovate innanzitutto le consultazioni attive, sono quelle che vengono chiamate processi. Vedete una serie di informazioni che aiutano a capire qual è l'arco temporale di durata di quella consultazione, quindi la data di inizio e la data di fine. Vedete qual è la fase nella quale ci si trova, quindi se quella consultazione è in una fase di avvio, se è in fase di svolgimento, se è in fase di chiusura o di rendicontazione dei risultati e una breve descrizione che vi aiuta a capire se quel tema è di vostro interesse, quindi in quel caso cliccando su pulsante partecipa entrate nella pagina nella quale vi viene presentata la consultazione. La prima pagina di presentazione di tutte le consultazioni che trovate su partecipa è una pagina di tipo descrittivo. Cosa trovate in questa pagina? Innanzitutto trovate una serie di elementi ricorrenti, tipicamente le informazioni offerte in questa pagina riguardano gli obiettivi e le finalità della consultazione, chi è il soggetto che la propone, chi può partecipare, attraverso quali modalità si può partecipare alla consultazione e una serie di componenti e di funzionalità che sono accessibili nella barra superiore, subito dopo l'elemento grafico che caratterizza ciascuna consultazione e che sono diversi e personalizzati a seconda degli obiettivi e delle finalità della consultazione. Questa pagina di presentazione su partecipa si chiama il processo. Ha questo nome perché la logica attraverso la quale si realizzano le iniziative di partecipazione su partecipa è una logica di processo. Questo approccio è ancora più evidente se si accede alla sezione che visualizza le fasi. Tutte le consultazioni su partecipa sono organizzate in fasi, fasi del processo di consultazione. Tipicamente trovate tre fasi, una prima fase che è comune a tutte le consultazioni ed è una fase di informazione e promozione che dura alcuni giorni ed è quella fase nella quale vengono diffuse le informazioni relative all'iniziativa, vengono fatte attività di promozione attraverso vari canali, vengono presentate e diffuse tutti i materiali che riguardano il contenuto di quella consultazione, una fase di di svolgimento e una fase di rendicontazione e restituzione dei risultati. Perché i tempi e le fasi? Perché nel progettare partecipa abbiamo avuto come riferimento il testo delle linee guida sulla consultazione pubblica che è un documento di principi, di suggerimenti e di consigli per realizzare consultazioni pubbliche di qualità, questo che vedete è un estratto del documento delle linee guida che adesso in consultazione proprio su partecipa e che suggerisce appunto di tenere un'organizzazione per fasi, di ragionare in una logica di processo quando si progetta di realizzare una consultazione. Questa che vedete, l'ho messa non per spaventarvi, ma per dare un'idea della struttura, di che cosa può fare il software che sta dietro partecipa, perché come vi dicevo all'inizio nella personalizzazione che è stata fatta per questa installazione si è scelto di utilizzare solo alcune funzionalità e componenti, significa che alcune delle cose che il software può fare in questo momento su partecipa sono stente. Decidim ragiona in una logica di spazi di partecipazione, sono quattro gli spazi di partecipazione che Decidim individua, le iniziative, i processi, le assemblee e le consultazioni. Per ciascuno di questi spazi di partecipazione, quando si configura e si progetta un processo di tipo partecipativo su questa piattaforma, viene chiesto di indicare quali sono le funzionalità e le componenti che si vogliono rendere disponibili a chi parteciperà e che si andrà poi successivamente a configurare attraverso una dashboard che viene offerta agli amministratori che gestiscono le singole consultazioni. Nella installazione di partecipa noi abbiamo individuato solo alcune di queste funzionalità. Una di queste è il testo commentabile. Il testo commentabile è una funzionalità di partecipa che trovate disponibile sulla piattaforma e applicata all'interno sia della consultazione Aiutaci a costruire partecipa che offre una panoramica delle funzionalità della piattaforma, sia utilizzata nella consultazione che è una di quelle aperte attualmente dedicata proprio al testo delle linee guida. La consultazione sulle linee guida prevede l'uso del testo commentabile che significa che il testo delle linee guida, la versione attualmente in consultazione, è stata trasferita sull'applicazione e formattata per essere resa commentabile dai partecipanti. È possibile inserire commenti quando si passa con il mouse sopra il testo viene mostrata questa schermata, quindi è possibile inserire un commento. I commenti inseriti sulle porzioni di testo sono visualizzati sotto forma di commento al termine del blocco di testo commentabile, quindi è possibile leggerli in sequenza come se fosse un thread di discussione di un forum ed è quindi una funzionalità che viene utilizzata quando si intende raccogliere commenti e suggerimenti su un testo sul quale si sta lavorando e sul quale si vuole ragionare in una logica di tipo collaborativo, quindi arricchirlo, migliorarlo, recepire indicazioni e suggerimenti che possono aiutare a rendere il testo più completo. Un'altra delle funzionalità attive su partecipa è quella che consente di raccogliere proposte, è una delle funzionalità che avete visto attive sulla consultazione aiutaci a costruire partecipa. Questa componente offre la possibilità a coloro che desiderano partecipare di inserire una proposta legata a un tema oggetto di consultazione. Un'altra delle funzionalità che trovate sulla piattaforma è il questionario, che è sempre una modalità attraverso le quali raccogliere feedback e proposte, però al contrario dello strumento proposte che lascia più spazi alla discussione perché le proposte sono commentabili, il questionario è uno strumento che può essere utile quando si desidera acquisire informazioni, opinioni, andare a sondare il punto di vista su un determinato argomento utilizzando una forma un po' più strutturata e in modalità più riservata. Questo perché il questionario è uno strumento i cui esiti non sono visibili alle altre persone che partecipano alla consultazione, mentre le proposte sono sempre visibili a tutti coloro che partecipano a quella consultazione, il questionario viene compilato e gli esiti sono poi elaborati sotto forma di report e diffusi a conclusione della consultazione, ma coloro che partecipano non hanno modo di vedere i questionari confilati durante la fase di consultazione. È uno strumento che consente di inserire domande di vario tipo, in questo caso vedete nella consultazione sulla semplificazione che è un'altra delle consultazioni aperte su partecipa, è stato impostato avendo delle domande a risposta aperta, è possibile invece avere dei questionari nei quali, come qualunque altro strumento nato per gestire sondaggi e questionari, si personalizza il tipo di domande, questo che vedete è il questionario di raccolta feedback che abbiamo attivato dentro Aiutaci a costruire e partecipa, scegliendo quindi invece risposte di altro tipo, quindi a seconda delle esigenze, delle finalità della consultazione è possibile configurare il questionario in modo che le domande vengono restituite nel formato che si ritiene più utile. Partecipa ha anche abilitate alcune funzionalità legate alla gestione di eventi ed incontri sia in presenza che a distanza, in questo momento nelle consultazioni aperte su partecipa l'unica tipologia di eventi che è stata realizzata a supporto delle consultazioni attive sono i webinar, i webinar li vedete normalmente linkati all'interno della singola consultazione, c'è una pagina che raccoglie tutti gli eventi legati a quella consultazione, come vi dicevo è possibile anche gestire attraverso questa funzionalità eventi in presenza, sia nella fase di preparazione che poi di restituzione dei risultati, quindi per esempio pubblicando qua i materiali, la lista dei partecipanti, eventuali altre informazioni che sono utili come rendi conto dell'attività. Un altro degli strumenti attivi su partecipa è il blog, il blog è in questo momento attivo solo sulla consultazione aiutaci a costruire e partecipa, è uno strumento che può essere attivato a seconda che si voglia per esempio avere uno spazio nel quale proporre dei temi sui quali si vuole far discutere in una logica che è abbastanza vicino a quella del forum, in cui appunto si discute e si interagisce non presentando proposte ma ragionando su un argomento sul quale si chiede alla comunità di persone che partecipano a quella consultazione di esprimersi. La registrazione e l'accesso su partecipa sono necessari per poter inserire dei contributi, l'accesso in questo momento è attivo solo attraverso form di registrazione, a breve sarà attivo anche su speed, le informazioni che vengono richieste all'accesso sono pochissime, sono quelle strettamente necessarie per poter entrare nell'ambiente e iniziare a partecipare, a esprimersi e a inviare il proprio contributo. È disponibile sulla piattaforma una sezione di aiuto nella quale sono raccolte tutte le informazioni che riguardano il funzionamento della piattaforma, è una serie di domande di FAQ che aiutano l'utente al primo accesso a orientarsi e a capire meglio come funziona. Anche su questo, visto che questo di oggi è un webinar dedicato alla piattaforma e a capire come migliorarla, vi chiediamo se ci sono dei quesiti che pensate ci debbano essere e non ci sono, se ci sono dei contenuti che mancano sulla base dell'esperienza che avete già fatto, quella che farete nei prossimi giorni su partecipa, grazie per segnalarcelo in modo da poter arricchire questa sezione. Se invece volete farvi un'idea di che cosa sia Decidim, quindi il software dal quale noi siamo partiti, potete farlo andando sul loro sito, a questo link che vedete indicato nella slide è possibile navigare in una versione demo di Decidim, avendo la possibilità di registrarsi con i due profili, cioè con quello di user e con quello di admin e quindi avete la possibilità di vedere il back end dell'applicazione e iniziare a farvi anche un'idea rispetto a come viene mostrata la facilità d'uso, anche per esempio andare a vedere quelle funzionalità che su partecipa in questo momento sono spente ma che sulla installazione demo della piattaforma vedete invece funzionanti. Decidim è un software open source, può essere quindi scaricato dal loro GitHub, questa è la pagina di GitHub nella quale è possibile scaricarlo, potete farlo direttamente anche dall'home page di partecipa cliccando sull'icona Decidim che trovate in basso a destra nel footer e quindi se avete voglia di sperimentare e di provare partendo direttamente dall'installazione originaria lo potete fare da lì direttamente. Se invece volete avere una panoramica di partecipa più interattiva e più accattivante rispetto a questa molto veloce che ho fatto io durante questa presentazione, nella pagina Scopri partecipa trovate una video demo che abbiamo realizzato che racconta che cosa sia la piattaforma e che cosa si può fare. Se avete come vi dicevo prima indicazioni, suggerimenti, semplicemente volete inviare delle proposte, delle idee potete farlo utilizzando l'indirizzo di posta che vedete in questa slide che è partecipa.governo.it che potete utilizzare quindi per qualunque tipo di comunicazione legato alle consultazioni che trovate ora aperte su partecipa in generale sulla piattaforma. Io ho concluso questa prima parte di panoramica e chiederei quindi a Sabrina Onano, la collega che fa da staffetta in questo webinar di apparire in video e di raccontarvi invece che cosa sta succedendo sulla consultazione aiutare Buongiorno a tutti, io sono Sabrina Onano e come ha detto Laura lavoriamo assieme alla progettazione e alla configurazione di questa piattaforma, della piattaforma partecipa. Il mio intervento sarà un intervento di sintesi su quello che è successo nella piattaforma in questo mese, mese e mezzo dal lancio con un'attenzione particolare a quello che è successo nella consultazione aiutaci a costruire e partecipa che come ha già detto Laura è stata la nostra consultazione di prova che abbiamo messo a disposizione di tutti gli utenti per raccogliere feedback sul funzionamento di partecipa in generale, raccogliere proposte su come migliorare l'applicazione e anche segnalazioni di malfunzionamenti, problemi vari sulle traduzioni o proprio sulle funzionalità della piattaforma. Siamo in una fase sperimentale di utilizzo di partecipa, quindi i contributi degli utenti, dei partecipanti alle consultazioni sono per noi molto importanti e preziosi anche per orientare la fase successiva di sviluppo evolutivo di partecipa. partecipa online dal 5 dicembre, al momento della pubblicazione erano presenti 4 consultazioni che sono quelle attualmente online anche se a brevissimo ne verrà aggiunta un'altra, quella per raccogliere i commenti sulla strategia 2025 sull'innovazione digitale. Tutte le consultazioni al momento online sono nella fase di raccolta dei contributi degli utenti. Al momento del lancio le consultazioni erano tutte aperte nella fase informativa, prene aiutaci a costruire partecipa che è stata appunto lanciata subito, utilizzata come strumento per capire come veniva percepito il funzionamento della piattaforma. Al momento ci sono 550 utenti registrati, significa che sono utenti che hanno creato un account e hanno acceduto per guardare dall'interno la piattaforma e per inserire i propri contributi. Rispetto al numero di utenti registrati però i contributi pubblicati sono decisamente meno distribuiti sulle 4 consultazioni, ma era neanche comprensibile visto il periodo in cui è stata lanciata e visto il fatto che comunque si tratta di una novità, quindi c'è anche da capire come funziona, ci aspettavamo un momento di esplorazione della piattaforma. Per aumentare la diffusione e per far conoscere le attività in corso sono stati organizzati una serie di webinar come questi che servono proprio per accompagnare l'utilizzo e promuovere l'utilizzo di questi strumenti. Quindi oltre i 4 webinar di presentazione delle diverse consultazioni sono stati fatti 4 webinar che invece servivano a dare indicazioni su come si progetta e come si realizza una consultazione per dare degli strumenti anche a chi nelle amministrazioni si vuole approcciare a questa attività, non quindi soltanto a chi vuole partecipare a consultazioni esistenti, ma a chi vuole proprio mettere su delle consultazioni seguendo tutto il processo. Sono stati fatti anche dei webinar per far conoscere altre esperienze di partecipazione. L'obiettivo della consultazione aiutaci a costruire e partecipa, così anche come l'obiettivo di questo webinar è spingervi a partecipare e a fornirci le vostre idee, i vostri suggerimenti, le vostre critiche su quello che è stato fatto finora, perché ci avviciniamo proprio a una fase di progettazione evolutiva nella quale ci sarebbe utile sapere quali sono le vostre esperienze d'uso e quindi eventualmente intervenire con dei correttivi che vadano incontro alle esigenze di chi poi utilizza lo strumento sia come utente sia come amministrazioni che dovesse essere interessate ad adottare questo strumento per le proprie consultazioni. Come ha detto Laura, aiutaci a costruire e partecipa, mantiene la struttura articolata per fasi sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida sulla consultazione, quindi abbiamo tre fasi, la fase di informazione, al momento siamo nella fase di raccolta dei contributi che sarà aperta fino al 4 marzo, nella quale siete invitati a partecipare con i vostri contributi, seguirà una fase di restituzione dei risultati nella quale si farà una sintesi dei contributi raccolti e poi verranno condivisi sempre nell'ottica di lavorare in maniera trasparente e dare conto dei contributi che abbiamo ricevuto. Anche la consultazione aiutaci a costruire e partecipa, rimane nelle statistiche di utilizzo delle altre partecipazioni a fronte di un numero significativo di utenti registrati, le proposte inserite sono 15, come potete vedere nella parte bassa della pagina vicino al footer c'è una zona di sintesi, un'area dove vengono sintetizzate le attività svolte all'interno della singola consultazione, quindi su Aiutaci a costruire e partecipa sono state inserite 15 proposte, ciascuna con un numero significativo di commenti, non tutte assolutamente attinenti, alla tematica trattata, però comunque ci sono stati dei contributi, ci sono due eventi, 25 risposte dove le risposte sono le risposte ai questionari, quindi non sono visibili agli utenti e il messaggio che è stato inserito nel blog è che è commentabile. vediamo il dettaglio degli strumenti, quindi come vedete nella sezione eventi sono stati pubblicati le schede informative relative ai due webinar realizzati, questo di oggi è quello che è stato realizzato a dicembre per lanciare la consultazione. la sezione relativa agli eventi, nella sezione relativa agli eventi si può navigare per data vedendo quindi gli eventi prossimi e gli eventi conclusi, in questo caso si tratta di webinar quindi la georeferenziazione non è significativa, ma se fossero eventi sul territorio ha un valore e anche vedere dove si svolgono, noi in queste consultazioni stiamo usando gli eventi soltanto come strumento informativo, però oltre alla pubblicazione dei contenuti relativi al singolo evento come ha già detto Laura, sarebbe possibile anche gestire attraverso questa componente l'iscrizione agli eventi. Noi per scelte organizzative lo facciamo attraverso un altro strumento ma un'amministrazione che dovesse essere interessata ad adottare questo strumento può farlo anche considerando il fatto che all'interno di partecipa o all'interno di decidimo in maniera più ampia possono essere gestite anche le registrazioni agli eventi e gli eventi stessi possono essere commentabili nel caso in cui si decidesse di utilizzare questo strumento non soltanto come uno strumento di carattere informativo, ma lo si voglia ampliare anche con delle caratteristiche di partecipazione Uno degli strumenti utilizzati per la raccolta di contributi su Aiutaci a costruire e partecipa e il blog. Avevamo pensato di utilizzare questa sezione, come potete vedere dal titolo del post per raccogliere le segnalazioni su bug di funzionamento e traduzioni. Prima di lanciare la piattaforma abbiamo affrontato un lungo periodo di test, però è chiaro che finché un'applicazione non viene utilizzata in maniera intensiva dai partecipanti, qualcosa, qualche funzionalità, ma anche qualche combinazione di funzionalità può sfuggire al controllo e quindi il miglior tester di un'applicazione sono sicuramente gli utenti nella vita reale, nell'utilizzo reale dello strumento. Non ci sono arrivati grandi segnalazioni di bug, se non per quanto riguarda la fase di registrazione ma sono arrivate per altri canali. Quindi ottimisticamente potremmo dire che non ci sono bug nel sistema o non ci sono problemi relativi alle traduzioni, ma l'assento di essere così ottimista, probabilmente un utilizzo più intensivo è una partecipazione più ampia, nei prossimi periodi magari porterà a scoprire qualcosa che non abbiamo ancora scoperto. Un'attenzione particolare alle traduzioni, noi con il progetto Partecipa abbiamo preso in carico la gestione della traduzione italiana della piattaforma Decidim, quindi abbiamo fatto una serie di correttivi sulle traduzioni disponibili e curiamo la localizzazione in italiano. Curare la traduzione è un lavoro ovviamente molto ampio soprattutto su un'applicazione di questo tipo che ha molte pagine, molte sezioni. Noi ci siamo dedicati, abbiamo fatto molta attenzione alla traduzione delle pagine di front office, però c'è ancora molto lavoro da fare, quindi anche indicazioni puntuali da parte vostra di qualche traduzione non corretta ci aiuterebbero molto a migliorare la qualità della traduzione che poi viene utilizzata per tutte le distribuzioni di Decidim che utilizzano la traduzione italiana. Quindi si tratta proprio di un lavoro che va a favore di tutta la comunità degli utilizzatori di Decidim, in questo caso in Italia. Abbiamo utilizzato largamente la componente proposte per raccogliere proposte di miglioramento ma anche segnalazioni di funzionalità auspicabili o che non funzionano esattamente come ci si aspettava. Le proposte raccolte sono 15, tutte con un numero discreto di commenti, c'è qualcosa che non è completamente coerente col tema. In questa fase, trattandosi di una fase di sperimentazione nella quale forse non abbiamo illustrato bene cosa ci aspettavamo, abbiamo lasciato anche queste proposte non attinenti, però è evidente che in una seconda fase dovranno essere eliminate o comunque non verranno prese in considerazione nella restituzione dei risultati recuperati da questa consultazione. Sicuramente i suggerimenti più generali che non possono essere incasellati in una delle consultazioni presenti possono essere forniti attraverso l'indirizzo email che è presente nella singola consultazione o comunque a livello di sito. Rispetto alle proposte inserite, quella che sicuramente ha avuto una maggiore discussione è quella su Speed, la segnalazione dell'opportunità di integrare Speed come sistema di registrazione su Partecipa. Questa proposta ha avuto 18 commenti, se avete tempo, avete la curiosità, potrete vedere come si sono svolte gli scambi, come ci siano diverse opinioni. Come già detto, Speed sarà uno dei metodi di autenticazione su questa piattaforma, rimarrà comunque attivo anche l'autenticazione attraverso username e password perché comunque vogliamo consentire la maggior partecipazione possibile. Quindi in questa fase in cui Speed ha una copertura in crescita ma ancora limitata, pensiamo di lasciare anche l'altro sistema di autenticazione. Penso che l'integrazione con Speed verrà resattiva a breve, stiamo ultimando le fasi di verifica, ci sono ancora alcuni identity provider con cui l'autenticazione non funziona correttamente, quindi siamo in una fase di testing per risolvere questi ultimi problemi, ma ragionevolmente a breve avremo attivo anche questo sistema di autenticazione. L'altra proposta che ha riscosso un certo interesse o un certo livello di discussione è quella relativa al layout del sito. I commenti sul layout del sito in generale sono abbastanza positivi, ma si richiama la necessità di avere un layout completamente compliant con le linee guida sui servizi web dell'APA. Noi abbiamo già fatto alcuni interventi per rispettare queste linee guida, però considerato che siamo partiti da un layout esistente, abbiamo applicato dei correttivi per rispettare quei requisiti più essenziali anche per quanto riguarda l'accessibilità e un work in progress, contiamo in questa seconda fase di sviluppo, di evoluzione della piattaforma di andare comunque nella direzione di essere completamente compliant con le linee guida. Ho riportato una sintesi dei temi, delle proposte che abbiamo raccolto in questa sessione. Ci sono anche osservazioni proposte sulla necessità di armonizzare delle proposte, di evitare i duplicati, di organizzare anche proposte a fini. Come vi ho detto in questa fase su partecipa non è prevista la moderazione a priori e abbiamo comunque tenuto limitata anche la moderazione a posteriori per vedere un po' come funziona, ma sicuramente alcuni di questi suggerimenti verranno presi in considerazione nella fase successiva. La serie, qua vi ho riportato una videata con la sintesi delle proposte non strettamente attinenti che però danno l'idea di come ci sia la voglia di partecipare e di dare dei suggerimenti. Nel momento in cui si trova uno spazio a disposizione è stato utilizzato, sebbene non sia quello più adatto, quindi stiamo ragionando anche su come mettere a disposizione uno spazio aperto che serva proprio a raccogliere suggerimenti così più ampi. L'altro strumento utilizzato per la raccolta di contributi è il questionario. Il questionario è strutturato in una serie di risposte chiuse per le quali viene richiesto un indice di gradimento sulla facilità di navigazione e di registrazione della piattaforma. I risultati su questo questionario sono molto positivi, però visto che il campione non è significativo degli utilizzatori della piattaforma, vi chiediamo veramente di darci il vostro contributo per capire qual è la direzione, se veramente questi primi contributi molto positivi rispettano poi la posizione e la sensazione della maggior parte degli utenti. Comunque da questi questionari risulta che è un giudizio abbastanza gradevole sul layout e sulla facilità di navigazione. Mi cade l'occhio sulla domanda, cosa si intende per non rappresentativo? 25 questionari non sono un campione rappresentativo dei 550 utenti che sono registrati su questa piattaforma, quindi potremmo avere un'idea più completa di quello che pensano i nostri utenti nel momento in cui avremo un maggior numero di questionari compilati. Molto interessanti le risposte, le osservazioni pervenute nelle due domande aperte che chiedono di indicare i punti di forza e i punti di debolezza, perché comunque ci fanno capire su quali sono gli aspetti su cui soffermare l'attenzione e quindi una verifica della terminologia, una maggiore evidenza magari dei contenuti che si possono trovare, che sono pubblicati all'interno della piattaforma e che magari sono stati illustrati durante un webinar e poi però non sono immediatamente ritrovabili, quindi questo significa che possiamo migliorare anche nel guidare l'utente nel trovare quello che cerca. Quindi questo è un po' quello che è successo in questo periodo su partecipa e in particolar modo su questa consultazione. L'abbiamo già detto più volte, quello che ci farebbe piacere veramente avere i vostri contributi per evolvere nella progettazione di questa applicazione in una direzione che vada incontro e vada a soddisfare le esigenze e gli aspettativi di chi poi la deve utilizzare, sia in qualità di amministrazione proponente sia come utenti che la utilizzano. L'indirizzo partecipa a fiociagoverno.it può essere utilizzato per mettersi in contatto con noi sui vari aspetti di utilizzo della piattaforma per segnalare, per fare osservazioni che non si ritiene possano essere incasellate negli strumenti che abbiamo messo a disposizione e comunque anche in questo momento, in questi minuti che ci rimangono per la fine del webinar, se avete qualche segnazione, qualche domanda, qualcosa che non è chiaro, qualcosa che pensate potrebbe essere approfondito anche nella sezione delle FAQ, dove noi abbiamo cercato di fare una panoramica di quelle che immaginavamo potessero essere le curiosità, le cose che avevano bisogno di spiegazioni, però se avete qualche indicazione da darci in questi termini ci sarebbe di grande aiuto. Io in questo momento non vedo domande. Laura, se hai qualcosa da aggiungere? Sì, intanto che vediamo se arrivano delle domande, se questa prima panoramica di quello che è successo dal 5 dicembre. ad oggi e questi primi feedback raccolti vi suscitano delle domande, aggiungo solo una cosa che è stato detto, insomma lo ricordo, in questo momento partecipa in una fase di utilizzo sperimentale, appunto è stato lanciato a dicembre, è in linea da troppo poco tempo e quindi stiamo ancora raccogliendo suggerimenti e proposte, ma anche noi stessi ragionando su correttivi, su piccole modifiche da fare. In fase sperimentale significa che in questo momento è ospita consultazioni promosse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è il soggetto che sta dietro questa iniziativa insieme con i due dipartimenti, funzione pubblica e riforme istituzionali. Ci sono un po' di feedback e di domande, ad alcune ho risposto dicendo che è in sperimentazione, quindi in questo momento ha delle consultazioni che sono promosse da due dipartimenti e si sta valutando se e come aprire alla sperimentazione da parte di altri enti, organismi e su temi che riguardino altri ambiti di policy. Lo dico perché per esempio c'è una domanda che riguarda la possibilità di essere utilizzata anche ai fini della valutazione delle performance. Sì, certo, ovviamente la piattaforma può essere utilizzata su vari temi, nei mesi precedenti al lancio è stata anche fatta una progettazione di una consultazione sul tema della valutazione della performance perché una delle cornici all'interno delle quali si inserisce questa iniziativa è il quarto piano d'azione nazionale OGP, partecipa è uno degli impegni assunti attraverso il quarto piano ed è previsto che ci sia anche un utilizzo con piattaforma per abilitare la partecipazione su altri ambiti di policy, quindi è possibile che in futuro venga utilizzato sia su quello sia per quanto riguarda, vedo anche un'altra domanda di Francesco che riguarda la 150, ovviamente è uno strumento, nel senso è una piattaforma, può essere personalizzata e utilizzata a seconda delle finalità del soggetto che propone processi di tipo partecipativo, appunto magari non in questa fase, come vi dicevo e come diceva anche Sabrina, in questa fase è importante per noi raccogliere vostre osservazioni, commenti, anche suggerimenti di questo tipo, di temi, ambiti di policy sui quali si potrebbe utilmente utilizzare gli strumenti di partecipazione e di consultazione disponibili su partecipa perché ovviamente sono tutti elementi che acquisiamo in questa fase di sperimentazione che poi verranno capitalizzati nei mesi successivi per i successivi sviluppi della piattaforma. Francesca Gleria dice sì, è rilasciata con licenza CCSA, è riusabile, come vi diceva Sabrina, noi stiamo ultimando le verifiche tecniche per integrare pienamente il modulo Speed, non appena il modulo Speed sarà attivo verrà rilasciata su GitHub Italia la versione personalizzata di Decidime, questa che adesso è in uso per partecipa, verrà rilasciata in riuso, quindi potrà essere scaricata direttamente da lì, in questo momento come vi dicevo all'inizio se qualcuno desidera installarla e sperimentarla, la cosa più semplice è andare su GitHub di Decidime, quindi sulla versione resa disponibile dal team di sviluppo che è quella dalla quale noi siamo partiti per fare questa personalizzazione e scaricarla e iniziare a testarla. Sì Laura, se vuoi posso rispondere alla domanda di Adolfo e di Andrea, per quanto riguarda la domanda sulla funzionalità di registrazione e sul fatto che non sia richiesta una verifica via email, nel momento della registrazione è possibile immediatamente accedere alla piattaforma, contestualmente però viene inviata un'email che richiede la verifica della mail inserita, la verifica della registrazione ed è necessario dare questa conferma per poter fare un accesso successivo. Nel team di sviluppo di Decidime giustifica questa procedura con il fatto di rendere proprio semplice e immediata la procedura di registrazione, quindi magari rinunciare a un minimo della sicurezza di una preventiva verifica dell'email a favore di una facilità di utilizzo, quindi è stata pensata proprio e progettata in quest'ottica. Per quanto riguarda la personalizzazione della piattaforma, ovviamente essendo una piattaforma open source a libero riutilizzo, le modifiche sulla piattaforma, sull'applicazione e sul codice possono essere fatte in autonomia rispettando i requisiti di sviluppo che sono indicati dal team di sviluppo Decidime, è molto utile utilizzare la comunità di sviluppatori, quella che vi ha illustrato Laura all'inizio della presentazione come ambiente di comunità proprio di utilizzatori di Decidime, perché lì è possibile inoltrare richieste di chiarimenti sul funzionamento di determinati strumenti, di componenti, ma anche suggerimenti di nuove funzionalità che potrebbe essere utile inserire e anche supporto in caso di non funzionamento proprio corretto dell'applicazione. Ovviamente il team di sviluppo da un supporto come viene dato normalmente negli ambienti open source, con la disponibilità e con la collaborazione di cui possono dare disponibilità in quel momento. Poi noi comunque in questo momento ci occupiamo dell'applicazione, abbiamo un'esperienza d'uso, quindi come comunità italiana possiamo sicuramente confrontarci e cercare di capire e anche di dare un contributo italiano allo sviluppo dell'applicazione. Mi pare non ci siano altre. Aggiungo solo un'ultima cosa relativamente a questo tema, che non so se mi sta seguendo questo webinar, ha avuto modo di seguire quello che abbiamo, o comunque può recuperarlo attraverso i 20PA, quello che abbiamo fatto il 19 dicembre con Giulia Bertone della Rete Civica di Milano. In quell'occasione Giulia raccomandava, insomma, solitivitava la costituzione di una comunità italiana di utilizzatori e di sviluppatori su Decidim. Quindi questa è un'informazione che vi do e che sta un po' sullo sfondo, era forza quello che diceva Sabrina, nel senso che è una sperimentazione, è partita ora, ci sono già un po' di soggetti che stanno utilizzando in Italia Decidim e sarebbe auspicabile che attorno a questi progetti si creasse veramente una comunità di riferimento, esattamente come esiste in altri paesi e che possa in qualche modo agire in una logica di raccordo e di collaborazione con il team di sviluppo a Barcellona. Io, se non ci sono altre domande, visto che siamo praticamente in chiusura, vi ringrazio per aver seguito questo webinar. Vi invito ovviamente a continuare a partecipare, a stare su Partecipa, a dare il vostro contributo di idee, di proposte per aiutarci a migliorarla. C'è una domanda di Francesca con un link? Sì, l'indirizzo è quello, design.org. Vi ricordo che la registrazione e le slide di presentazione verranno pubblicate a breve sulla pagina di Eventi.pa, di cui vedete il link in chat inserito dalla collega Stefania Mulas, che ringrazio per l'aiuto e il supporto durante questo webinar. Vi saluto, vi ringrazio e a presto.